E vabbè dai... Ma scusa, ma te non ti puoi fare un mondo di salvataggio? E te non puoi star fermo? Aaaaaaah! Dio Dio! Ciao ragazzi, sono a casa di Bella Faccia e sto parlando a bassa voce perché lui al momento sta dormendo e voglio approfittare del fatto che stia dormendo per fargli uno scherzetto. Sapete molto bene tutti quanti che a lui piace farmi gli scherzi. Infatti me ne ho fatti un bel po'. Come per esempio questo. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Beh avete capito, mi ha fatto tantissimi scherzi. Quindi, visto che al momento lui sta dormendo, voglio far finta di avergli distrutto il mondo di Minecraft per vedere la sua reazione. Ovviamente non gli distruggerò veramente il mondo. Ho fatto una copia e gli distruggerò la copia del mondo. E poi glielo diremo, non sono mica super cattivo eh. Comunque, come vedete qui ho attivato il suo microfono, così potremmo sentire tutto quanto per bene. Ho anche attivato la webcam. E adesso è arrivato il momento di entrare in camera per vedere se sta ancora dormendo. Shhh! Ok ragazzi, sta dormendo. Shhh! Ok, perfetto. Come avete visto, lui sta ancora dormendo. Ho creato un'altra doppia inquadratura. Adesso questa telecamera la posizionerò qua. È arrivato il momento di nasconderla. Ok, perfetto. È nascosta. Così non appena chiamerò bella faccia per fargli vedere che cosa è successo al suo mondo, potrete vedere tutto quello che succede. Adesso è arrivato il momento di rompere il suo mondo con le TNT. Ripeto, è un mondo finto, non è il suo vero mondo. È un mondo copia. Quindi non vi preoccupate e non mi mettete non mi piace. Andiamo in creative. Perfetto. E guardate il suo mondo tra non molto esploderà. Devo prendere adesso la TNT. Devo essere anche abbastanza veloce perché secondo me si sveglia da un momento all'altro. Ed è veramente un miracolo che non mi abbia ancora sentito perché sto parlando fin troppo rumorosamente. Ok, mettiamone un paio qui, un po' qui. Così e così. Ok, adesso si ragiona. Sì, 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 sì. Sono pronto. E adesso diamo il via alla distruzione. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Oh mio Dio ragazzi, tutto il suo mondo di Minecraft esploderà in mille. Oh cavolo! Il caffè è stato fatto saltare in aria da bella faccia. Oh mio Dio, gli ho ucciso un gatto. Oh mio Dio ragazzi, guardate cosa è successo. Ok, ok ragazzi, direi che il suo mondo è completamente devastato. Adesso è arrivato il momento di vedere la sua reazione. Siete pronti? Lo vado a svegliare. Quasi mi dimenticavo, togliamo la TNT, togliamo la game mode, survival, ok. Sveglia. Dai, a parte che è tardi, sveglia. È successo un casino. È successo un casino. Sono entrato nel tuo mondo di Minecraft con una versione sbagliata e sei sbagliato. Volevo fare un video dove ti facevo una sorpresa nel tuo mondo. Però penso di essere entrato con una o due versioni precedenti. E i blocchi sono tutti capogutti con la gravità. Non capizzo niente. Allora, vieni in cucina e lo faccio vedere. È successo un casino con il tuo mondo. Vieni, vieni. Oh, si è sbagliato il mondo. La versione sbagliata fa sta roba. Ti giuro. Ma cos'è? Una mia vanilla? Sì. Ma che ca... Ma stai scherzando? Te lo giuro. Tutti i blocchi sanno spariti da un momento all'altro. Ma che... Sì, cos'è una TNT qua? No, no, no. Appena sono entrato sono... Ma guardate! Vabbè, ma c'è il mondo di salvataggio, no? C'è il backup. Ma che backup? Non ce l'hai? No, ascolta. No, aspetta. Devi avere del backup, scusa. Aspetta, eh. Fammi andare in game mode. No, 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 no. Aspetta. Eh... Cosa è successo? Ma sono in sta parte? Sì, sì, sì. È perché è la parte che ho generato io. Sono entrato, sono esplosi tutti i blocchi. Sono caduti. Tipo come se ci fosse stata la gravità. Dai, oh, si può ricostruire. Sei serio? Ma sì, dai, alla fin fine che cos'è? È soltanto il terreno. Ma quasi che cos'è? Ma è solo il terreno, si ricostruisce. Ti aiuto io. Ma te sei serio? Dai, si può fare, no? Ma tu che versione usi? È quella del real. Dai, si può fare. È rotto, devo rifarlo. Va bene, ma è solo il terreno. Devo rifarlo? Sì, ma è solo il terreno. Ma come è solo il terreno? Ma non lo vedi che è solo il terreno? Si può fare. Ma è tutto distrutto. No, io guardo. Guarda, guarda. Ma è distrutto. Terra, guarda. No, no, no. Ti giuro. Come fa a far così? Ma sono caduti i blocchi come se fossero... Si, i blocchi dal seno sono caduti. Si, come se ci fosse stata la gravità. Ho cambiato versione e si è bugato tutto. Si, esplosa la terra, esplosa. Chiediamo il permesso ai fan, ci mettiamo in creativa e lo ricostruiamo subito. Dai, cosa ci vuoi? Ma non rifai tutto, ma non rifai tutto. Va bene, dai, mi aiuti. Non lo faccio da solo. Sai, guarda te. Sono due buchi. Uno e due. Adesso ricostruisco. Adesso? Si, adesso. Dai che dobbiamo uscire. No, no, no. Non me ne frega. No, non me ne frega. Ci puoi fare un video? No, no. Mi sei distrutto. Si. Mi hai distrusso tutto. Non sono stato io. Eh, no, ti è stato, dai. Io... Dormo. Non puoi... Berti una camomilla. No, no. È colpa. È colpa mia perché non avrei dovuto chiederti il permesso. Però dai. Adesso mi ripaghi. Eh, questo ti ripaghi. No, no. Adesso? Guarda, sono due buchi. Eh, due buchi. Vabbè, dai. Ma scusa, ma te non ti puoi fare un mondo di salvataggio? Te non puoi star fermo? Ma che ricordo il link che ti avevi dato ai fan? Ma non lo so. È una versione vecchia, però ce l'hai. Non lo so, ma che... Eh... No. Eh, si può controllare. Eh. Hai visto? Ah, te l'ho risolta. Perchè è accesa la webcam? Ah, 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 ah. Perché è accesa la webcam? La brutta sarei dimenticata Perché è accesa la webcam? Non lo so Perché è accesa? Ma te mi prendi Ma te mi prendi in giro? Vieni qui Che va Ho visto anche l'altra telecamera Ho visto la telecamera Adesso te la butto nel bidone Adesso te la butto nel bidone Sto telecamera Cosa stai facendo? Sei zucca dalla parte Cosa stai facendo? Il mondo? No il mondo ho fatto il salvataggio tranquillo Non l'hai perso Ti ho rotto la versione finta Ti ho rotto la versione finta Perché? C'è uno scherzo Vieni qua seguimi Guarda C'è anche La doppia inquadratura Qui col cellulare Oh mio dio Dai vieni qua Che mi devi dire A fare la miniatura adesso Ragazzi lo scherzo È riuscito Alla perfezione Bella faccia Vuoi dire qualcos'altro? No Lasciate tanti Mi piace se vi è piaciuto Perché sicuramente Ne farò degli altri Però non glielo dite Dal vostro candle E da Bella Faccia è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao